salve cari articolo 17 vediamo un po i cittadini hanno diritto i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica i cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente senza armi scusate ma allora l'esercito al g8 di genova come come se riunito non mi pare che avessero armi no ma allora quando tu vai in giro per la città vai vicino a piazza duomo e ci sono due carri armati e due stronzi con due armi da guerra che possono uccidere in un secondo 400 persone e questo sarebbe riunirsi pacificamente senza armi ma la legge non doveva essere uguale per tutti o forse semplicemente volete creare un clima di merda a terrorizzare le persone e rendere tutti infelici per poter approfittare della cosa perché siete dei sessualmente repressi non scopate mai e non sapete che cosa l'amore sia per le riunioni non è richiesto preavviso ci mancherebbe io mi riunisco con chi cazzo voglio quando voglio in pubblico il luogo pubblico non esiste tutti i posti sono di tutti quindi non è la differenza tra luogo pubblico luogo privato non esiste il preavviso non esistono le autorità non esistono i motivi di sicurezza della cosiddetta sicurezza avremo modo di parlare molto approfonditamente o di incolumità pubblica io sono in colo meno non ho bisogno di voi e della vostra costituzione questo pezzetto di carta va bene risolto anche questa grazie ciao